Musica Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, sono Hasbrald Siamo qui con Forza Horizon 3, la ventiduesima puntata di questo gameplay Siamo tornati dopo un po', sì perché FIFA mi sta prendendo un po' la mano Oggi siamo qui con la nostra Charger Daytona del 69, bellissima, color puffo poi E ovviamente quando andiamo a prendere un gioiello dimenticato andiamo a scoprirne un altro Infatti abbiamo già impostato la destinazione per un gioiello dimenticato Sempre qui nell'outback, vediamo che cosa, quale gioiello ci sarà Comunque l'interno bellissimo eh, Charger Bellissima, bellissima, andiamo a scoprire questo gioiello dimenticato Eh questo alettone bello tamarro Però per le gare di NASCAR una volta si usavano C'era anche la Pontiac Firebird mi sembra che era così Non vorrei dire una stupidata eh però Sì qui il percorso non lo tagliamo perché tanto è un chilometro Poi me la voglio godere un po' questa macchina quindi Bella bella, bella, cattiva, come piace a noi Ah qui possiamo anche tagliare un po' in mezzo ai campi Tanto abbiamo la macchina adatta, no per fatto Ah c'era un cartello, dopo lo andiamo a spaccare Allora Facciamo così Come sempre Ci fermiamo con classe Mezza la strada E andiamo a prendere il nostro drone E andiamo a vedere dove può trovarsi questo gioiello dimenticato Bellissimo Eccolo qua Eccolo qua Si trova in questa posizione qui Perfetto Venti rombo Allora Andiamo a mettere il segnalino Cattiveria Ce l'avevamo proprio qui Io ho fatto tutto il giro Per poi ritrovarcela qui Perfetto Come sempre la nostra prepotenza non ha limiti Vediamo che gioiello ci sarà Vediamo Una Falcon Mamma mia Cattivissima anche questa Bella Bella Mi piace Le macchine americane Mi piacciono troppo Soprattutto quelle tamarre così Allora Ford Falcon GT Eh si Era presente in Australia Anche questa Quest'auto Perfetto Abbiamo scoperto il nostro gioiello dimenticato Vediamo Andiamoci a fare Qualche ruota della fortuna Così almeno Ne abbiamo otto Perfetto Andiamo a farcele Vediamo un po' se Mike buongiorno ci assista No no 2000 crediti Io Non lo accetto Vediamo Allora C63 non mi interessa Dammi un premio consistente 75.000 Meno male Oh Finalmente Vai vai Giriamo Uh la Stratos Questa la voglio Questa la voglio Dammi la Stratos Dammi la Stratos 100 Perfetto Perfetto Grazie Grazie Bellissimo 100.000 crediti Ah La Z28 Bella Però Preferisco crediti Ah Beh 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 45.000 crediti Va benissimo Vai vai Eh 28 giorni fa 100.000 crediti Io ho appena vinti Quindi non c'è problema No Preferivo la Acura La MS 635 CSI No Non mi piace proprio come auto Però È regalata Dai 037 La voglio La voglio La voglio La voglio Almeno questa Almeno questa Sì Sì Abbiamo la 037 Lo so Lo so Eh sì 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 Assolutamente La 037 Stradale Signori Un'auto che Avrei voluto Prendere Perfetto Allora Una G65 Ci starebbe Per l'offroad Però Una Subaru In prezza Perfetto Perfetto Almeno facciamo Un po' di cambio Con Con la nostra Evolution Eh La V8 Vantage Bellissima Anche questa Vabbè 35.000 Oh Direi che È andata Benissimo Non bene Benissimo Questa Questa nostra Passeggiata Qui Abbiamo trovato Un gran bel Gioiello Dimenticato Una Ford Falcon GT E Soprattutto Abbiamo vinto Dei soldi E delle belle Macchine Comunque Io con questa Dodge Charger Daytona Del 69 Cattivissima Vi saluto Vi rimando Al prossimo episodio Di Forza Horizon 3 O di FIFA Seguite le serie Sul mio canale Iscrivetevi al canale Se l'avete ancora fatto Lasciate un like Lasciate un commento E condividete il video Un saluto a tutti Da Asbra Un saluto a tutti Grazie a tutti.